Con 11 voti favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti, non è passato al Consiglio Comunale di Favara il conto consuntivo 2014. Una bocciatura politica all'operato del sindaco che proprio nei giorni scorsi sull'argomento aveva provocato i consiglieri di opposizione invitandoli a non approvare il punto. E così è stato. A votare no i consiglieri Lombardo, Broccia, Ceresi, Palumbo, Vassallo Todaro, Bennardo, Airo e Gerlando Nobile che poi si è dimesso dalla carica. Teoricamente con la non approvazione di ieri del conto consuntivo la pubblica assise cittadina verrebbe ad essere sciolta. Sino a fine legislatura il lavoro di Aula Falcone Borsellino dovrebbe essere svolto da un commissario regionale mentre sindaco e giunta rimangono saldi all'aeroposto. Il condizionale usato per l'uscita di scena anticipata del Consiglio Comunale è d'obbligo poiché l'amministrazione può decidere di ripresentare il consuntivo 2014 al Consiglio Comunale che a sua volta potrà approvarlo. C'è tempo ancora tre giorni. Il 26 settembre infatti è l'ultimo giorno utile. Intanto, come detto, nella seduta di ieri un altro membro di Aula Falcone Borsellino si è dimesso. Gerlando Nobile in una nota parla di una città che va verso il baratro. Chi la guida scrive non ha la lucidità necessaria a capire le reali criticità. Ricordiamo che Gerlando Nobile era subentrato in Consiglio Comunale nel mese di marzo scorso al posto del dimissionario Paolo Dalli Cardillo. Forte il messaggio di Nobile che scrive anche «non posso perdere la mia dignità di uomo e di padre di famiglia». Con un ipotetico scioglimento del Consiglio Comunale per il sindaco di Favara si prospetta una legata in solitaria fino alla scadenza del suo mandato. Sarà così? La maggioranza che sostiene Mancanella ha mostrato più volte di non essere solida e non aver più a che fare con un consiglio labile per l'insegnante in pensione potrebbe essere un'occasione ghiotta nel proseguimento senza intoppi della sua azione amministrativa. Politicamente, quindi, l'opposizione ha mostrato gli attributi facendo Arachiri, anche se forse sarebbe stato meglio chiudere non solo le attività consigliari ma anche quelle dell'amministrazione comunale. D'altronde, i tebi tecnici per una mozione di sfiducia c'erano. Per la cronaca ISI al conto consuntivo 2014 sono stati dei consiglieri Bellavia, Alaimo Paolo, Caramazza, Nobile, Rizzuto, Valenti, Castronovo, Di Stefano, Limplici, Milioti Pasquale e Bottone. Gli assenuti il presidente Lupo, Plicato e Schifano. Gli assenti Scalia, Salemi, Fallea, Crapanzano, Milioti, Giuseppe, Sorce e Fanara. Assente anche Vetro subentrato al posto della dimissionaria Chianetta. Si attenderà quindi la decisione di Vetro che, qualora annuncerà di non voler accettare la carica, potrebbe dare il posto a Giovanni Trupia.